Da decenni i terreni a ridosso della spiaggia di Policastro sono occupati da campi agricoli, coltivazioni che hanno alimentato l'economia locale. All'inizio del secolo scorso intere famiglie hanno tratto profitto solo da questi orti e qualcuno ancora oggi continua a sfruttarli per produzioni proprie ma anche per vendite ambulanti. Su questa distesa di campi a pochi passi dal mare si sono cresciute dunque intere generazioni. Negli anni qualcuno ci ha costruito casa, qualcun altro si è limitato a conservare le baracche ereditate dagli avi che continua ad usare come deposito a supporto del proprio orto. Una realtà agricola anche degradata che certamente poco si sposa con l'immagine turistica della ben nota cittadina balneare. Quello che si vede dalla spiaggia e dal lungomare è una serie di casupole in lamiera, recinzioni ed erbacce. L'amministrazione fortunato fin dal suo insediamento senza alcun timore e grande chiarezza ha fatto ben intendere che avrebbe mandato tutto questo all'aria per riqualificare e rilanciare l'intera fascia costiera attraverso la realizzazione di opere a supporto dell'industria turistica locale. E mentre annunciava e continua ad annunciare la rivoluzionaria operazione di restyling ha sempre messo in chiaro che il comune può radere al suolo tutto ciò che si trova a ridosso del lungomare perché i terreni sono comunali e sono stati occupati quindi abusivamente. Tutti i cittadini interessati però ritengono di non aver commesso alcun abuso e rivendicano la proprietà dei suoli ed è per questa ragione che continuano a denunciare l'ente ogni qua volta a buttaggiù recinzioni e baracche come accaduto in questi giorni durante i lavori in corso per la riapertura dei canali che sfociano lungo la costa. Il paese è diviso fra chi sostiene che l'aria deve essere riqualificata e appoggia la scelta politica dell'amministrazione fortunato di andare avanti senza alcun preavviso ai cittadini coinvolti e chi invece ritiene che in rispetto delle storie familiari che si sono alternati in questi orti l'amministrazione chiami e raccolta gli interessati per un confronto sereno su come riqualificare l'aria senza spezzare violentemente il legame che si è creato tra i campi in riva al mare e la comunità. Tutto questo chiaramente deve avvenire nel rispetto delle regole e soprattutto sulla base di un'idea progettuale e fino ad oggi non sono state presentate pubblicamente alla comunità le opere che il comune intende realizzare al posto degli orti.